Matteo Renzi, ieri e oggi a Roma, cerca di riprendere le fila della politica in attesa della sentenza della Corte Costituzionale del 24 gennaio, quando i giudici si pronunceranno sull'italicum. Renzi, infatti, messa da parte le tentazioni di accelerare, ha deciso di aspettare la decisione della consulta prima di presentare la proposta del PD. L'auspicio è che la Corte salvi almeno il ballottaggio, a quel punto si partirà da questo paletto per una proposta e non sarebbe più il mattarellum, il disegno di legge su cui il PD cercherebbe un'intesa in Parlamento, ma un sistema che preveda che al secondo turno arrivino solo due forze, magari in coalizione. Il guanto di sfida è soprattutto per il Movimento 5 Stelle che si dice favorevole all'italicum e quindi il ballottaggio, così da approvare in tempi brevi una riforma omogenea e tornare alle urne. Ma questa proposta aprirebbe una nuova frattura nel PD, dove la minoranza non ha mai visto di buon occhio il doppio turno. Ed è proprio per cercare di mediare tra i dem che, a quanto si apprende, Gianni Cooper lo presenterà una proposta di legge elettorale che ricalca i punti principali dell'accordo sulle modifiche all'italicum, siglato dallo stesso Cuperlo con Renzi ad inizio novembre, cancellazione del ballottaggio, premio alla coalizione e elezione dei deputati nei collegi. Renzi intanto ha avviato quella fase di ascolto dentro e fuori il partito per, ripeta i suoi, fare tesoro degli errori commessi. Il leader Dem potrebbe annunciare la nuova segreteria già all'inizio della prossima settimana per rafforzare l'organismo interno. L'obiettivo è di aprire il partito ai territori, con l'innesto di alcuni sindaci, ma anche di coinvolgere alcuni esponenti della società civile. Irrobustendo la segreteria, di fatto l'ex premier prepara le vere mosse dei prossimi mesi, costruire il programma elettorale con cui affrontare una sfida che, ammettono tutti, sarà durissima.